Come si inserisce rispetto alla Apple un progetto come quello della 5G Academy di cui oggi valutiamo la conclusione? Nel Polo di San Giovanni, come Federico II, abbiamo deciso di mettere tante iniziative, lanciare tante iniziative tutte quante di formazione specialistica che si affianca alla formazione tradizionale che facciamo come Federico II sui vari corsi laurea, non necessariamente soltanto quelli STEM ma anche quelli di area umanistica, sociale, economica. In particolare poi questa Academy su 5G va assolutamente benissimo a fianco dell'Apple Academy perché mentre l'Apple Academy si occupa di tutti gli aspetti legati al terminale e quindi alle tecnologie di sviluppo delle app, la 5G affronta un problema legato più all'infrastruttura, un po' alla sensoristica e alle varie applicazioni. Quindi devo dire che siamo estremamente contenti di questo successo, di questa Academy che peraltro sta portando i ragazzi a sviluppare dei progetti così interessanti in collaborazione con aziende molto importanti sia nazionali che internazionali. Ecco, la maggior parte di questi progetti poi li vedremo sono anche inclusivi a favore dell'inclusione perché un po' la sfida anche delle nuove tecnologie è quella dell'inclusione. Come si inserisce Apple in questo panorama? Allora, questo è una cosa che è un altro tratto comune di quasi tutte le Academy che vengono fatte al Polo di San Giovanni. Sia nella 5G Academy sia nell'Apple Developer Academy i ragazzi sono naturalmente portati nello sviluppare, nel proporre questi project work nell'affrontare problemi di inclusione sociale, di innovazione sociale in generale. E quindi io anche nell'Apple Academy abbiamo dei progetti che sono pluriennali che portiamo avanti con delle NGO che sono distribuite in tutto il mondo e quindi mi ha fatto molto piacere vedere che tanti ragazzi dell'Academy 5G hanno avuto la stessa sensibilità. Secondo me, specialmente quando sei ancora in una fase di apprendimento, stai imparando il fatto di dedicare le tue energie, il tuo talento per risolvere problemi per persone che hanno tanti problemi, mi sembra una bellissima storia.